Schifrin e la storia dello sci, seconda nel gigante di Are. Are, Svezia, la fuoriclasse statunitense Michela Schifrin entra nella storia dello sci, vincendo oggi il gigante di Are. La 28enne americana ha raggiunto il successo numero, 86, in Coppa del Mondo, traguardo che le consente di eguagliare il record assoluto stabilito dallo svedese Ingemar Stenmark fra il 1974 e il 1989. Schifrin, dopo una prima manche dominata in 55-16, rifilati 58 centesimi alla seconda. La canadese Valerie Grineer, completa l'opera nella seconda parte di gara portando a casa anche la Coppa di Gigante dopo essersi assicurata sia il trionfo nella classifica generale che in quella di slalom. Alle spalle della Schifrin un'ottima Federica Brignone, che risale dalla quarta alla seconda posizione. Al 55esimo podio in carriera, il sesto stagionale. L'Azzurra è staccata di 64 centesimi dalla Schifrin. Terza la Beniamina di casa, Sara Ector a 0,92. Fra le Azzurre, ha punti anche Marta Bassino, undicesima. Elisa Platino, diciannovesima, e Roberta Melesi, ventesima. Non ha invece superato il taglio Sofia Goggia. Che aveva chiuso la prima manche al 34 gradi posto. Virgola.